Abbiamo iniziato a lavorare duramente preparando soprattutto il fisico a tutto il resto delle partite che mancano alla fine perché sappiamo che ci spetta un gran duro lavoro e dalla settimana prossima inizieremo a preparare la partita con la Cremonese che già inizia con una grande sfida perché è un'ottima squadra. Abbiamo ascoltato poco fa Fiorillo e ci ha detto io non mi nascondo l'obiettivo adesso è la Serie A, se l'accordo sì? Beh, siamo in questo punto nel girone di andata, è normale che uno pensa ad arrivare al massimo, deve essere così quindi non voglio esprimermi perché Pescara manzia più che altro ma sono sicuro che ce la giocheremo fino alla fine. Mi dai un voto al girone d'andata del Pescara? Ma otto perché per raggiungere il dieci bisogna andare in Serie A. Se io ti dovessi dire, insomma il periodo di Natale di quel Pescara di Zeeman che ti esaltò tantissimo e questo periodo di Natale, vedi similitudini tra l'ora, adesso, l'entusiasmo, gli obiettivi? Un po' diverso da quello che ho vissuto nell'ultimo periodo in quell'anno si è creata proprio quella cosa magica. Ancora un po'? Nel periodo natalizio è ancora troppo presto, sì sei contento, sei felice ma è ancora troppo lunga. L'obiettivo è quello di ricreare quell'atmosfera? Beh, sicuramente, ti ho detto, siamo qui per lavorare e provare a raggiungere l'obiettivo che può essere quello e speriamo che così sia. Quindi siete in tre per giocarvi sempre due maglie, tu Cristiano Delgrosso e Ciofani. Insomma bisogna lavorare duramente per la concorrenza è alta. A Salerno ha giocato Matteo, prima avevi giocato sempre tu. Beh, di sicuro la concorrenza è alta e soprattutto è sana, quindi io ho sempre detto non è importante chi gioca, l'importante è il bene del Pescara. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo un messaggio che vuoi mandare ai tifosi perché tu hai sempre sostenuto e ribadito il tuo amore per questa maglia. Cosa dici alla curva? Sono sicuro che con l'andamento positivo della squadra molta gente si riavvicinerà al Pescara perché questa è una piazza che merita davvero tanto e abbiamo un tifo che può fare davvero tanto, quindi loro lo sanno e mi auguro che già domenica prossima ci sia il pienone.